Sono ormai dieci anni che a Natale Montepulciano si veste a festa, proponendo attrazioni ed eventi. Già diverse famiglie hanno scelto Montepulciano per questo primo fine settimana dell'evento Natale a Montepulciano per trascorrere appunto nel nostro centro storico in tutto il territorio comunale per vivere l'atmosfera natalizia che è già appunto iniziata e che già si assapora. È un evento che fin dai primi anni si è conquistato il titolo di uno degli eventi natalizi più importanti d'Italia e quindi è un grande motivo di soddisfazione. Piazza Grande propone le eccellenze enogastronomiche ed artigianali, confermata la terrazza per degustare il vino nobile, rinnovata la casa di Babbo Natale in fortezza. Il decimo anno ci tenevamo molto, abbiamo lavorato per rendere la fortezza innovativa rispetto agli anni precedenti, all'interno troverete una serie di novità importanti. Il castello è stato ampliato, sono tornati i laboratori, finalmente ci siamo liberati in qualche modo da questa pandemia che ci costringeva a non fare i laboratori, quindi i bambini dopo aver fatto numerosi laboratori, aver visto tutta la casa di Babbo Natale, arriveranno attraverso un ascensore magico a vedere Babbo Natale. E chissà se il mese di dicembre, il 15 per l'esattezza, porterà in dono alla Valdichiana Senese il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2026. Babbo Natale è arrivato anche il Natale 2023, che festa sarà? Diciamo che spero che sia meglio dell'anno scorso.